ciao a tutti oggi partendo dal mio libro foto mosse di famiglie immobili faremo degli scambi con dei passanti che incontro per strada e da questo libro arriveremo si spera ad un'utilitaria una macchina andiamo a vedere scusa scusa ciao 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 tra le camera stiamo facendo un esperimento sociale che ci puoi dare per questo libro c'è un paio d'occhiali già iniziamo benissimo allora questo è tuo e questi sono miei grazie mille dal libro siamo già arrivati a un paio d'occhiali ragazze ciao in cambio di questo paio d'occhiali mi vorreste dare un oggetto un qualcosa in cambio io no a lei non piaccia che ti posso dare un oggetto possibilmente migliore il telefono no questa felpa per la sera che va freschetto non lo so dimmi tu mi dai la felpa perfetta grazie mille ragazze grazie davvero dal paio d'occhiali abbiamo avuto questa felpa senti stiamo facendo un sì 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 te la metteresti una felpa c'è freddo è un po sì io te la do tu in cambio mi dai le cuffie veramente e ho freddo e dalla felpa abbiamo ottenuto un paio di cuffie scusi posso se ti do queste cuffie ultima generazione in cambio di questa bici lo fareste va bene tieni grazie mille e dalle cuffie abbiamo ottenuto una bici grazie mille salve sto facendo un esperimento sociale cioè in cambio non gliela rendo non gliela regalo in cambio di questa bici ciao ciao no 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 aspetta sto girando la che cazzo fai la sentito mi hai dato un libro che non è in realtà quel libro ti ho dato gli occhiali sì è vero grazie però questa è la copertina di aspetta signora un attimo ti ho tanto letto e manco lo conoscevi quello vecchio e quello nuovo mi spieghi perché sto libro c'ha una copertina e dentro un'altra cosa perché è un altro libro è vecchio il libro nuovo ancora non scusa il libro nuovo ancora non è uscito esce a fine mese io non ce l'ho quello no fisicamente non me l'hanno dato e quindi io ti ho dato i miei occhiali per una cosa e adesso non è quella capisci io chiamo la polizia che chiami la polizia ma è una cosa è un baratto non c'è non sussiste un reato ancora constatata ora ti do la bici ti do la bici oh ti do la bici mi dai la bici sì la bici la prendo ma anche gli occhiali ti voglio i miei occhiali dove sono ormai è troppo tardi per gli occhiali ho fatto una cazzata tanto lo so non do abiti a pezzo del merda le Grazie a tutti.